e amici sportivi buonasera ben ritrovati nuovo appuntamento con tutti nel pallone ventottesimo appuntamento stagionale con la nostra trasmissione noi come ogni venerdì siamo pronti a presentare il weekend calcistico delle formazioni calabresi un weekend che si apre già questa sera con l'anticipo della trentunesima giornata in serie B Regina già in campo alla Ferraris contro il Genoa gara sicuramente molto delicata poi si prosegue domani con il Cosenza che riceve al San Vito Marulla il Pisa domenica la serie C e la serie D di tutto questo parleremo questa sera con l'ospite che vi presento subito in studio con me c'è un ex bandiera del Catanzaro ex capitano giallorosso Francesco Corapi buonasera buonasera a tutti davvero un piacere averti qui ciccio ti do del tu intanto partiamo da questo un piacere poter affrontare con te discussioni varie un giocatore come come te insomma che ha giocato un po' in tutte le categorie tra l'altro anche in tante squadre calabresi ci offre l'opportunità di svariare su diversi temi noi solitamente partiamo dalla serie B e lo facciamo anche con te una serie B davvero strana particolare quest'anno con una squadra il lafrosinone in vetta una sorpresa sicuramente non ci si aspettava di poter trovare in vetta la squadra di grosso comunque c'erano squadre che forse sulla carta erano meglio attrezzate come il Genoa che appunto segue e poi le due calabresi che si trovano a vivere momenti particolari regina le prese con problemi societari più che i problemi sul campo che ci sono anche ma che passano in secondo piano cosenza che deve ancora una volta affrontare una lotta salvezza che in questo momento però la vede ripresa sì partiamo dal presupposto che penso che il campionato di serie B sia il più pazzo e equilibrato di tutta Europa perché chiunque può vincere contro contro chiunque vediamo anche due giornate fa se non erro la vittoria del Cosenza a Frosinone che nessuno se l'aspettava e quindi anzi una partita fa prima della sosta sì il Frosinone è stata la sorpresa del campionato ha trovato la giusta la giusta quadratura e quindi ha preso ha preso il largo dietro vedo comunque favorito il Genoa rispetto rispetto alle altre ci sono diciamo delle delusioni come il Benevento il Parma stesso e adesso per quanto riguarda le calabresi fino a qualche settimana fa il Cosenza lo davano tutti per spacciato invece si è ripreso alla grande penso che mentalmente loro sono abituati a questo tipo di situazioni e ne possono ne possono uscire ancora ancora una volta io spero che ne usciranno perché comunque da tifoso catanzarese è sempre bello vedere il derby Catanzaro Cosenza mentre per quanto riguarda la regina ha iniziato benissimo tutti hanno iniziato a darla come favorita poi c'è stato il calo perché comunque il campionato di serie B è lunghissimo fisiologico anche per una squadra partita in ritardo rispetto alle altre con un tiro fatto in casa in più adesso ci sono queste vicissitudini societarie che secondo me stanno influendo in negativo sulla squadra impossibile tenere la testa allontana anche per un gruppo che magari è affiatato e ben so ben costruito però impossibile non farsi coinvolgere da quelle che sono queste beghe societarie queste situazioni societarie assolutamente anche perché comunque sia loro hanno rischiato il fallimento quest'estate quindi con l'arrivo di del presidente Saladini si pensava fosse tutto risolto ritrovarsi adesso di nuovo in delle brutte situazioni sicuramente a livello mentale non non è stato facile si regina che andrà in conto incontro con ogni probabilità di una penalizzazione da scontare in questa stagione è chiaro che poi bisogna vedere anche che cosa succederà con le prossime discadenze perché intanto deferimento e penalizzazione deferimento arrivato penalizzazione in arrivo poi bisognerà capire che succederà poi se la situazione si sbloccherà o meno insomma staremo attenti insomma a seguire quello che succede in casa amaranto dove appunto a tenere banco sono sicuramente più le questioni extracampo che non quelle relative al rettangolo verde regina appunto che sta giocando a genova quindi ne parleremo poi la prossima settimana di quello che è successo che è successo in campo tornando appunto alla serie b la classifica lo dicevamo è una classifica particolare che ancora vede un po' tutto aperto perché tutto può succedere tanto in testa quanto in coda diamo un'occhiata proprio alla classifica dove il frosinone guida con 62 punti seguito dal genoa quota 56 sono le due squadre che attualmente otterrebbero la promozione matematica e la promozione diretta in serie a seguono due neopromosse su Tirol e Bari davvero se sorprese il frosinone non possiamo non ritenere una sorpresa il su Tirol soprattutto assolutamente sì è stato io onestamente le prime tre giornate vedevo comunque che non ingranava non ingranava la davo già come prima retrocessa poi è arrivato è arrivato Bisoli diciamo che la situazione è cambiata perché ha sistemato le cose è una squadra che prende pochissimi gol e il gol lo riesce lo riesce a fare sempre si ritrova si ritrova lassù per quanto riguarda i Bari era già fortissimo l'anno scorso hanno fatto un mercato oculato prendendo diciamo le pedine giuste si trova lì meritatamente su questo aspetto torneremo parlando del Catanzaro e di quello che dovrà fare il Catanzaro nel mercato per affrontare in maniera degna una serie B tornando invece a Cosenza una lotta serrata per la salvezza contro squadre lo dicevi anche prima che si trovano lì invischiata nella zona retrocessione c'è il Benevento c'è il Brescia c'è la spalla sono squadre che non erano costruite per evitare la salvezza diretta forse ancora più difficile però in queste situazioni riuscire a venirne fuori perché non hai uomini abituati a lottare in determinate condizioni come invece forse c'è il Cosenza come come ho detto prima il Cosenza comunque anche lo scorso anno ha fatto una una rimonta straordinaria vincendo poi la finale la finale play out quindi è più abituato rispetto magari a un Benevento che negli ultimi anni è stato in Serie A poi ha lottato sempre per il vertice il Brescia stesso comunque che ha un grande blasone un grande passato la spalla stessa come il Benevento fino a pochi anni fa era in Serie A quindi secondo me rispetto a loro il Cosenza mentalmente è più abituato perché è partito già con l'obiettivo che si si dovesse salvare quindi rispetto magari al Benevento che era partito con tutte altre obiettive e tutte le altre intenzioni. Intanto domani alla San Vito Marulla arriva il Pisa non è un avversario facile non è mai stato un avversario facile la squadra di D'Angelo insomma riserva sempre tante tante insidie non sarà facile però il Cosenza a questo punto deve fare punti con chiunque ha dimostrato di poter fare punti anche con chiunque. Sì non è una partita semplice eh perché come il sud tiro con Bisoli anche il il Pisa con l'arrivo di D'Angelo si è eh si è ripreso perché era nelle nelle ultime posizioni è stato richiamato lui e eh sta facendo un grande campionato e sta confermando quello che di buono ha fatto lo scorso anno quindi sarà una partita eh difficile da da affrontare però nell'ultimo periodo vedo un 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 Cosenza sicuro di sicuro di sé che può dire sicuramente la sua in in questa partita. Che Cosenza vedremo allora domani alla San Vito Marulla per questa sfida contro il Pisa questo l'undici che abbiamo ipotizzato possa schierare i viali una quattro tre uno due con Micai confermatissimo tra i pali Martino, Vaisanen, Meroni e Dorazio in difesa Florenzi, Calò e Brescianini che è l'uomo che sta decidendo le ultime partite in casa Cosenza a centrocampo D'Urso dietro a Delic e Nasti ma per saperne di più per capire quali sono gli ultimi umori le ultime impressioni proprio alla vigilia della gara andiamo proprio in casa Cosenza sentiamo le parole del tecnico William Viagli Tanto so che c'è molto interessamento su per quanto riguarda la formazione quindi risponderò a questa domanda ne approfitto per dire che a questo punto abbiamo una situazione o una situazione piacevolissima che veramente possono giocare tutti quindi ho diversi ballottaggi l'idea è chiare ma è chiaro che in questo momento potrebbero giocare veramente tutti quindi ho l'imbarazzo della scelta sotto l'aspetto delle assolutamente sotto l'aspetto della partecipazione della condizione fisica della condizione psicologica e quindi per domani ci sono più possibilità in tutti i ruoli dietro in mezzo e davanti per quanto riguarda i recuperati devo dire che Cortinovis non ci sarà della partita nel senso che era ritornato con il gruppo però un pochino condizionato gli da un po' fastidio a questo problema che ha e quindi non non sarà tra i convocati e siamo consapevoli di incontrare una squadra veramente qualitativa una rosa importante una squadra sia fisica che tecnica quindi una squadra completa che sta facendo un ottimo un ottimo percorso da quando l'abbiamo incontrata l'ho incontrata io la mia prima partita con la sulla panchina del cosenza ha fatto un percorso importante e quindi sappiamo siamo consapevoli al delà delle problemi che potrebbero avere su qualche su qualche singolo e dell'idea che possono fare sotto l'aspetto tattico hanno giocato spesso spesso a 4 ultimamente hanno cambiato anche con la difesa 3 e questo è abbastanza è abbastanza relativo per noi sappiamo che giochiamo contro una squadra veramente di di grande qualità e dovremmo fare una grandissima prestazione per stare dentro della nella gara la partita che mi aspetto incontrata una squadra che è abituata a fare la partita coraggiosa grande densità offensiva noi vorremmo cercare comunque di far partita come abbiamo sempre fatto soprattutto in casa e cosa succederà dipenderà poi come sempre dall'atteggiamento e dai duelli che vincerà più duelli porterà la partita dalla propria prenderà probabilmente il campo sugli avversari siamo pronti a battagliare siamo convinti determinati rispetto per una grande squadra ma vogliamo fare cercare di dare continuità di prestazione sicuramente ma anche dei risultati noi abbiamo cercato di esserlo sempre questo e chiaramente magari non sempre ci siamo riusciti quindi la mentalità non cambia vorremmo cercare di concedere poco all'avversario quindi lavorare bene nelle riconquista e cercare di poi di poter creare solità numerica poter far far fatica al Pisa anche quando abbiamo palla noi perché altrimenti le partite sono lunghe il secondo me la qualità sulla prestazione di Frosinone è stata proprio questa giocavamo contro la grande squadra che sapevamo che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà siamo stati bravi a limitarli e le abbiamo messe in difficoltà quando ce l'avevamo noi e quindi si sono dovuti preoccupare anche insomma di tutte e due le fasi noi vorremmo fare una partita del genere con grande coraggio ma soprattutto con grande determinazione e per chiudere il capitolo serie b non possono chiederti un commento sul parma sulla tua ex squadra appunto lo dicevi all'inizio squadra che era stata costruita per far bene parte se ti chiami parma giochi in serie b non può interpretare comunque un ruolo da da con primaria tante difficoltà può farcela però a agganciare playoff e magari chissà essere l'altra la terza squadra ad approdare poi in serie a sì nei playoff ci può entrare ci può entrare perché comunque è lì diciamo che per quello che è stato è stato speso è una è una delusione per per le ambizioni per per tutto quello che rappresenta parma sicuramente non può stare in quella posizione quella posizione di classifica sta a pecchia e giocatori far quadrato e tentare attraverso i playoff di di conquistare di conquistare la serie a comunque la società una società serissima è una società che comunque ambisce a tornare a tornare in serie a il presidente kraus comunque essendo americano non è un tipo che sta a guardare quindi per lui secondo me è comunque un grande business e per essere business al cento per cento deve conquistare la serie a tutti i costi assolutamente sì intanto la promozione l'ha ottenuta e la catanzaro in serie c raccontami quelle che sono state le emozioni da tifoso giallorosso per questo tanto attese tanto ambito salto di categoria sì finalmente è arrivata e hanno hanno preso diciamo la col fatto comunque di aver perso sempre i playoff hanno hanno deciso di sì assolutamente hanno deciso di puntare dritto a vincere il campionato anche perché magari hanno pensato se no qui non non si sale più hanno restito una una grande squadra che lo era già lo scorso anno hanno preso le le pedine giuste non hanno comunque fatto diciamo del dei cambi e di 13 14 15 giocatori delle rivoluzioni con lo stesso allenatore che già aveva aveva dato un gioco lo scorso anno una mentalità e meritatamente penso ma nessuno lo può mettere in dubbio sono cadanzaro è andato andato in bile mie emozioni come tutti i tifosi sono sono emozionato dal punto di vista magari del del giocatore un po rammaricato perché era una cosa che poteva succedere già due anni fa e con il mio infortunio diciamo che non ho potuto dare una mano alla squadra nel nell'ultimo periodo esatto proprio un rammarico insomma quello di dell'ex capitano giallorosso in questo caso non essere riuscito dove riuscita quest'anno la società dicevi la programmazione insomma il aver mantenuto l'ossatura il tecnico l'aver costruito passo passo rispetto al cadanzaro di due stagioni fa qual è stato lo step che ha garantito appunto questo salto di categoria diciamo che dal punto di vista della qualità c'è c'è differenza tra quella squadra e questa questa è una è una squadra perfetta e non in ogni reparto lì avevamo sicuramente delle delle lacune e nonostante tutto abbiamo fatto un secondo un secondo posto che nessuno si aspettava quando poi diciamo è iniziato quell'anno lì è stato stravolto è stato stravolto di nuovo tutto rispetto agli acquisti di gennaio perché a gennaio insieme a me erano arrivati altri 7-8 giocatori importanti hanno deciso comunque di limitare un attimino i costi quindi ci sono state delle eccessioni ed è stata fatta una squadra sicuramente inferiore a quella di quest'anno però si era creato un gruppo solido e una mentalità comunque vincente che ci ha permesso di arrivare di arrivare di arrivare dietro dietro la ternana che era il catanzaro di adesso e quindi diciamo che la differenza sostanziale anche nel mercato di gennaio non secondo me non ci siamo rinforzati come come dovevamo quindi di conseguenza si è perso quel qualcosa che ci potesse portare magari a battagliare con la ternana fermo restando che comunque il mio infortunio è quello di Martinelli nei playoff che eravamo diciamo lui da dietro io in mezzo al campo quelli che facevamo il gioco è stata un è stata una brutta tegola da digerire poi siamo usciti in quel modo dall'ultimo minuto altrimenti secondo me potevamo arrivare fino in fondo prese le mosse però da quella formazione il catanzaro di oggi perché hai nominato Martinelli ma non c'era solo Martinelli degli attuali campioni di oggi è un lavoro come ha detto anche foresti è un lavoro che è partito due anni fa perché comunque sono sono rimasti Martinelli fazio scognamiglio in difesa che si sono anche lo scorso anno si sono si sono confermati come la migliore difesa se non una delle migliori due anni fa uguale e poi è stato confermato verna e gatti che era stato comunque che era arrivato a gennaio è stato confermato comunque come come rincalzo ed è un buon rincalzo e quindi è partito tutto tutto da lì e poi piano piano è stato costruita la macchina perfetta che è che è oggi e hai sentiti per complimentarti per sì 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 ho sentito diciamo loro quattro più jemmello e poi comunque ho mandato sempre le congratulazioni sia al digiforesti che alla proprietà jemmello appunto da un catanzarese all'altro un passaggio di consegne in un certo senso sì lui diciamo che era quello che mancava due anni fa sicuramente è sceso è sceso di categoria era per lui era una una scommessa e il fatto comunque dopo la partita persa colpato lui secondo me l'ha presa come come una sfida personale perché non poteva finire in quel modo e in un nulla di fatto quindi ha deciso di fortemente di rimanere ed è giusto che adesso si goda si goda questa grandissima vittoria ovviamente jemmello è l'uomo copertina di questo catanzaro i suoi gol 23 gol finora hanno trascinato le aquile a questa straordinaria promozione a questo ritorno in serie b da jemmello bisogna ripartire per il prossimo campionato ovviamente un attaccante che inciti fa 23 gol che è sceso comunque di categoria perché era era in b e di catanzaro bisogna ripartire per per forza di cose da da lui davanti putte da martinelli da questi secondo me all'ossatura il catanzaro già per fare bene se vogliamo in serie b il prossimo anno quanto e cosa deve cambiare secondo me non deve cambiare tanto perché sennò si corre il rischio di di perdere quello che hanno costruito fino fino adesso anche perché è difficile creare con gente con tanta gente nuova una mentalità un nuovo gioco quindi io penso che sicuramente qualche accorgimento va fatto però senza nessun stravolgimento diciamo che poi cambia in serie b il discorso relativo anche agli under ci sono c'è una quota di under obbligatoria gli over non possono superare i 18 quindi insomma è un po' diverso in questo senso in un catanzaro che era una macchina da guerra ma soprattutto di giocatori con una certa esperienza i giovani ci sono ma però diciamo che i dei 24 che sono adesso bisogna calcolare che guion se c'è l'intenzione penso che ci sia l'intenzione di tenerlo il sassuolo diciamo fa fa il possibile per lasciarlo a catanzaro e farlo crescere ancora diciamo che è under per età e poi c'è martinelli che comunque giocatore bandiera quindi diciamo che gli over sarebbero la possibilità di avere altri 18 over oltre a a martinelli quindi ci saranno sicuramente tante conferme poi qualcuno purtroppo dovrà dovrà lasciare come è inevitabile che sia si dovrà ripartire anche da vivarini un po' il nodo di queste ultime settimane un rinnovo che tarda ad arrivare perché non onestamente non lo so cioè nel senso della matematica era inizialmente inizialmente comunque non c'era tutta quella quella fretta perché comunque il mister era concentrato sul campo per raggiungere l'obiettivo quindi penso che non non era il momento anche per come stava andando il campionato era una questione di giornate quindi c'era tutto il tempo per parlare di rinnovo e ora onestamente non lo so non non lo so perché non non so cosa si sono detti non non so le le dinamiche quindi Ivarini ha parlato di progetto di rilevanza del progetto attende forse di sapere che cosa vorrà fare il canazzaro in serie b prima di eventualmente accettare e chiaro immaginiamo che dopo un campionato del genere anche a lui saranno arrivate richieste di un certo livello e proposte di un certo livello sicuramente sicuramente sì molti per un tecnico della serie b l'ha già fatta molti pensano quando tu fai bene non un posto lasci quel ricordo bello e vai via altri invece accettano comunque continuano ad accettare le sfide il rischio e pericolo che quel che quel bel ricordo si possa rovinare vedi Ranieri nella sua prima intervista che è arrivata a Cagliari e ha detto molti mi hanno detto di comunque che rischio di rovinare il ricordo dei tifosi del Cagliari nei miei confronti però comunque sia io non sono fatto così accetto comunque accetto comunque la sfida per il momento non sta andando male assolutamente quindi non ti ripeto non può essere anche che noi stiamo facendo dei discorsi campatinari e loro magari hanno già trovato accordo e stanno solo aspettando il momento giusto per ufficializzarlo oppure stanno discutendo sul contratto sul progetto oppure il mister magari avrà avuto qualche altra offerta importante e sta magari valutando non lo so lo sapremo a breve sicuramente insomma mancano poche settimane alla conclusione del torneo speriamo ipotizziamo che è una questione questa che si possa risolvere anche prima della conclusione dello stesso intanto c'è un'altra questione che tiene banco e parecchio a Catanzaro che è la questione stadio non si può non parlare di questo è chiaro che per la serie B il Nicola Ceravolo va un attimo adeguato eh nell'immediato nel prossimo campionato di serie B non si può che parlare di un adeguamento del Nicola Ceravolo è chiaro che poi i discorsi che si fanno vanno anche oltre stadio nuovo stadio di proprietà stadio fuori città però per il momento va adeguato il Nicola Ceravolo sì l'ho detto una presidente intervista che mi è stata fatta questa domanda eh al momento va adeguato non ci sono i tempi per fare altro non ci sono i tempi tecnici quindi è inutile iniziare a costruire un altro stadio per poi magari andare in un altro posto a giocare quando comunque il il Ceravolo può essere può essere sistemato e messo e messo a norma poi eh io ho visto un un'intervista del dottor Dario noto eh che parlava di stadio e diceva se noi vogliamo crescere avere ambizione ci vuole lo stadio nuovo eh perché comunque è crea eh degli ulteriori ingressi economici che possono possono aiutare la società ad ambire a qualcosa di più di più importante lo stadio Ceravolo per per i più romantici comunque è sacro per i tifosi del Cadanzaro è è sacro però c'è chi dice eh ma io devo parcheggiare non si sa da dove devo partire tre quattro ore prima poi quello magari il tifoso che sta a Cadanzaro a due passi non si vuole spostare perché comunque va a piedi ed è tutto tranquillo è difficile mettere d'accordo mettere d'accordo tutti però eh penso che alla fine qualsiasi decisione si prenda la cosa più importante è che il Catanzaro eh raggiunga eh gli obiettivi che si è che si è preposto anche il prossimo anno perché non penso che eh la società voglia vivacchiare in in serie B o salvarsi all'ultima giornata non sono eh i tipi la famiglia noto non è non non sono delle persone che stanno lì a guardare vogliono 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 sempre vincere nella vita lavorativa e hanno hanno vinto perché hanno creato eh si può dire un impero e qui nella stessa cosa vogliono fare vogliono fare nel calcio e infatti sono stati giustamente premiati per tutti i sacrifici che hanno fatto in questi in questi anni diciamo che poi gli ultimi anni ci hanno insegnato che eh stadi nuovi e stadi di proprietà veramente consentono di fare uno step eh notevole anche da un punto di vista societario economico di introiti e di insomma di tutto l'indotto che gira intorno squadre club di di serie A come la Juventus come l'Udinese insomma ma anche squadre di serie B il Frosinone ha uno stadio di eh eccezionale insomma sotto questo punto di vista dobbiamo ancora imparare a prendere tanto dalle dai campionati stranieri però forse questo è davvero un primo passo sì è un primo passo in Inghilterra perché comunque la patria degli stati di proprietà lo stadio all'avanguardia parlarne in serie C sembra un paradosso però ora siamo in serie B però se si va ad analizzare anche magari in Inghilterra lo stadietto di serie C piccolino e vedi uno stadio di serie C in Italia c'è una differenza enorme c'è anche la partita di serie C lì è un piacere è un piacere vederla perché comunque tutti attaccati al campo le tribune comunque si vede un bello spettacolo ora il Cadanzaro al Ceravolo ha fatto il primo passo di togliere le le barriere le vetrate e penso che nel guardare comunque la partita anche in tv è un altro occhio senza le vetrate sembra tutta un'altra cosa quindi spero che comunque in tanti possano comunque decidere di di avere uno stadio magari non di proprietà però di avere uno stadio funzionale non solo al calcio ma funzionale a tante altre cose e soprattutto funzionale al tifoso che viene a vedere la partita e vede un bello spettacolo anche perché lo ha insegnato la partita con il Pescara della scorsa settimana nel momento in cui c'è una partita di cartello una partita alla quale si vuole accedere in massa al Ceravolo non si può più perché 12.000 persone si fa presso il sold out e quindi come si come si risolve la questione bisogna aumentarne la capienza la serie B è chiaro non c'è bisogno di uno stadio da 30.000 persone perché questo non non è necessario però forse 15 20.000 sarebbe la capienza ideale diciamo che in un catanzaro solo un catanzaro acireale si è arrivato a 18 a 20 ma come tutti così non c'erano ciò che forse oggi non si potrebbe non c'erano le regole che ci sono che ci sono adesso in tanti dicono tanto alla fine se il prossimo anno in B le cose non vanno come come speriamo saremo sempre quei 3.000 4.000 non ha senso di qua e di là però io dico ma se invece il progetto è serio e si vuole fare qualcosa di più se nel caso in cui le cose dovessero andare bene come come si fa poi ci sarà ci sarà la problematica polemiche come ci sono state con il pescara con il pescara per per la pre vendita per tutte quelle cose lì che purtroppo purtroppo esistono diciamo che c'è una passione una fame di calcio in questo momento a catanzaro che si faranno abbonamenti si si farà un gran numero di abbonamenti quest'estate è ipotizzabile insomma che per non correre il rischio di rimanere fuori in tanti eh sì questo è un vantaggio questa cosa che è successa con con il pescara è un vantaggio per la società perché in molti chi ne avrà sicuramente la possibilità si si abbonerà per evitare di 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 rimanere per evitare di rimanere di rimanere fuori anche se c'è da dire che era giornata giallorossa comunque gli abbonati non avevano prelazione di nessun tipo si avevano prelazione su sull'acquisto del biglietto però diciamo che è una una problematica seria questa dello stadio ed è una problematica da risolvere anche quella della viabilità a catanzaro sì perché comunque c'è io ho letto un commento giustissimo secondo me di un tifoso che dice abbiamo l'ospedale lì a due passi e quando c'è la partita comunque il traffico è bloccato e c'è il rischio comunque che magari l'ambulanza non possa andare non possa passare è successo è anche successo neanche troppo in tempi troppo lontani non ti ho chiesto dove hai visto la partita con la gelbison quella che ha sancito a casa ero solo a casa l'ho vista sul divano e a fine partita che è partito risultato però sono sono rimasta a casa nessun carosello per le non sono non sono il tipo nessuna festa al momento niente va bene per un catanzaro che ha già stravinto c'è un crotone che ancora programma e si organizza un crotone che sta facendo le prove per quello che sarà poi il post season zauli sta provando a mischiare le carte nelle ultime settimane cercando l'assetto migliore per poter arrivare ai playoff nella migliore condizione possibile ci arriverà il crotone da secondo perché ormai questo è un dato matematico affrontare i playoff da secondi ciccio corapi che l'ha fatto con il catanzaro solo due anni fa non è necessariamente un gran vantaggio sì secondo me il vantaggio c'è perché comunque salti dei turni però c'è lo svantaggio che rimani magari troppo troppi giorni fermo e quindi bisogna gestire al meglio quel periodo in cui gli altri giocano e tu e tu stai fermo e quindi da una parte un vantaggio dall'altra da questo punto di vista per il fatto della dell'inattività dell'inattività è un po uno è un po uno uno svantaggio gli ultimi playoff insomma mi viene in mente quello vinto dal cosenza quello anche lo scorso anno con il palermo ci dimostrano anche che partire prima spesso soprattutto nel girone c che un girone dove la piazza dove l'ambiente fa tanto partire prima forse può essere invece un vantaggio sotto questo punto di vista nel senso che il superare i primi turni carica l'ambiente ti dà fiducia e ti proietta forse anche in una condizione mentale sicuramente favorevole rispetto a chi poi entra in corsa dopo sì però non c'è una regola esatta perché io li ho persi a cadanzaro da secondo poi a trapani li ho vinti da secondo e a parma li ho vinti da secondo quindi non c'è una non c'è una regola esatta sta tutto come arrivi fisicamente e mentalmente il cosenza è arrivato carico ha iniziato a vincere le prime partite poi ha iniziato ha iniziato a crederci secondo me aveva comunque una grande una grande squadra sui giocatori che sono finiti in serie a quali palermo stesso ha vissuto i playoff con tanto entusiasmo per il cambio di proprietà per perché comunque baldini aveva trovato una 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 quadratura perché da quando era arrivato lui comunque le cose erano completamente cambiate nell'ultimo periodo non perdeva una partita quindi era già è andato di slancio nei playoff e poi quando c'è io lo scorso anno dicevo se il cadanzaro vince col padova va in b se il cadanzaro non dovesse vincere col padova il palermo va in b perché a livello comunque di tifoserie di di calore il padova secondo me stava un gradino dietro sta uno stava un po indietro mentre il cadanzaro se la poteva giocare sia a livello tecnico e sia a livello di di calore lo sappiamo benissimo quindi secondo me il padova si è ritrovato lì è andato un po in un po in difficoltà e il crotone che ruolo può interpretare nei prossimi playoff chiaro che è tutto un'incognita il crotone sulla sulla carta e dovrebbe per la rosa che ha a disposizione mister zauli dovrebbe essere la favorita cioè crotone ha trovato un catanzaro fuori fuori dal normale e quindi si si ritrova magari un secondo posto però non e non viene neanche saltato il il campionato del crotone cosa che io farei perché comunque è una squadra seconda in classifica che ha incontrato una una corazzata infatti non per zauli ci mancherebbe non non mi permetterei mai però per me mandare via l'erda è stata una decisione affrettata perché comunque sia secondo me non non si poteva fare di più cioè il crotone ha fatto un grande campionato l'unica cosa che magari posso appuntare al crotone è il fatto di tutti quei pareggi in casa che diciamo gli sono costati la la lotta fino fino alla fine perché se non sbaglio ha fatto quattro cinque pareggi in casa quindi contro squadre tralasciando il catanzaro contro squadre nettamente inferiori vedi con la gelbison vedi se non sbaglio con il potenza al di là del di catanzaro crotone era un campionato onestamente al di sotto delle loro capacità si si assolutamente quando iniziato vedendo le rose ho detto il campionato solo giocheranno catanzaro crotone pescara poi inizialmente il pescara comunque stava reggendo secondo me ha pagato la sconfitta interna con il catanzaro perché da lì mi sa che ha fatto due o tre sconfitte di fila e poi è iniziato anche qualche problemino societario insomma che sicuramente non ha non ha aiutato crotone che domenica affronterà il taranto andiamo a vedere il prossimo turno in serie c si gioca la trentacinquesima giornata cerignola potenza crotone taranto appunto le 17 e 30 andrea turris gelbison viterbese juve stabbia vellino pescara francavilla giuliano catanzaro alle 14 30 messina foggia monopoli latina monterosi picerno catanzaro che sarà invece di scena in casa del giuliano a questo punto come si trovano le motivazioni per giocare altre quattro partite ci sono le motivazioni si si trovano sempre perché comunque non l'obiettivo è non fare innanzitutto brutta figura anche perché comunque sia se tu inizi andare a perdere di qua andare a perdere di là anche gli addetti ai lavori possono storcere il naso quindi primo obiettivo è quello secondo me e poi comunque hanno sempre dei dei record da da raggiungere che contano sempre poi durante gli anni il record quel record del catanzaro con l'altro record del catanzaro quindi secondo me sono sono queste le motivazioni oltre al fatto che c'è sempre la supercoppa bisogna arrivare nel migliore dei modi può essere un uno stimolo un'arma in più insomma nell'arco di vivarini la possibilità di ruotare in questa fase qualche elemento c'è probabilmente quelli che hanno giocato un pochino di meno perché catanzaro una panchina che sarebbe titolare i vari brignola curcio per citarne solo alcuni potrebbero ecco essere quell'arma in più in questo momento sì perché comunque hanno sicuramente voglia di mettersi in mostra hanno voglia di giocare perché fondamentalmente hanno giocato poco perché l'undici titolare è stato quello per tutti per per tutto per tutta la stagione quindi avendo comunque una rosa così ampia e così forte a disposizione penso che mister varierà qualcosa per raggiungere la motivazione giusta perché magari chi ha giocato finora a quella motivazione in meno rispetto a chi ha giocato magari poco non è un caso se curcio effettivamente stato il migliore in campo contro il pescara insomma al di là del gol una grande una grande prestazione la sua intanto di questa mattina la notizia di un provvedimento di daspo della durata di due anni a carico di un tifoso di appena 19 anni del crotone in occasione insomma dell'incontro proprio il derby giocato a lezio uscita fra crotone e catanzaro dello scorso 13 marzo quindi ancora strascichi per quella che è stata una partita alla fine con una sola tifoseria in campo però il lancio in campo di un fumogeno e di una bottiglietta se non erro insomma è costato il ad aspo a questo a questo tifoso della crotone davvero una pagina brutta se vogliamo ciccio perché era la pagina più brutta è stata non avere tifosi del catanzaro in occasione di quella partita perché più volte l'abbiamo detto si è preferito non intervenire non rischiare di incorrere in problemi ed in pericoli quando invece probabilmente un servizio d'ordine all'altezza avrebbe anche potuto evitare i contatti no come come succede nella maggior parte delle partite in italia non solo se una sconfitta perché comunque in base ai disordini della dell'andata si è deciso di evitare tutto quello che è successo all'andata ed è una sconfitta perché le cose si possono se si pensano bene e in maniera corretta si possono sempre si possono sempre fare però penso che per i tifosi del catanzaro sia stato sia stato bello anche così perché aver poi preso la squadra da bottricelli in poi è stato comunque secondo me bellissimo scendiamo in serie di dove si gioca in nel fine settimana la 29esima giornata andiamo a vedere in grafica quelli che sono gli impegni previsti con catania la mezzia terme trapani castrovilleri licata san cataldese locri città nova paterno sant'agata ragusa santa maria del cilento san luca versa mariglianese canicati e vibonese a ciriale poi si tornerà in campo per un turno infrasettimanale giovedì quindi una serie di che prosegue con catania che ormai ha vinto ci sono tre ex squadre di cora in serie di giusto si trapani la mezza e di buonese come stai vedendo il campionato di queste tre formazioni rapidamente prima di chiudere la mezzia diciamo che dopo il campionato storto lo scorso anno quest'anno ancora ancora peggio il loro obiettivo era quello di contendere il campionato al catania o almeno stare il più vicino possibile così non così non è stato il trapani cambiando società diciamo che ha deciso di ricostruire pian piano poi c'è stato il cambio anche del del direttore sportivo e non il cambio il direttore sportivo è andata a ciriale mi sa che non hanno preso nessuno mentre la vibonese ha allestito secondo me una squadra dove le aspettative erano tante però se andiamo a vedere la rosa a disposizione mister modica non era quello che si potesse aspettare e che finale di stagione ci dobbiamo attendere o la mezza che riuscirà a centrare almeno l'obiettivo playoff lo spero per lo spero per loro anche se in campionato i risultati sono stati deludenti nelle ultime settimane anche la sconfitta in in coppa italia diciamo che era l'ultimo obiettivo era l'ultimo obiettivo è andato è andato perso lo spero per loro che possano riuscire a agguantare i playoff sono contento per il locri di renato mancini che ha fatto un ha fatto un gran lavoro ha cambiato poco dallo scorso anno che diciamo che questa la la strategia vincente cambiare poco si è cambiato pochissimo anche perché le disponibilità economiche erano erano poche io ci ho parlato quest'estate con correnato detto speriamo di salvarci e invece ha fatto un fatto un grande campionato assolutamente sì per chiudere che cosa è andato storto lo scorso anno nell'avventura alla mezza che cosa è andato storto la rosa era secondo me una rosa all'altezza proprio della della situazione l'unica secondo me cosa che inizialmente il fatto di san biase vigor queste due fazioni anche all'interno secondo me un pochino l'abbiamo l'abbiamo pagata perché all'interno comunque c'erano gente della gente del san biase magazzine della vigor magazzine del san biase direttore della vigo il direttore del san biase era un po una e poi c'era chi non faceva parte di queste due fazioni che stava che stava in mezzo e tentava di mediare però poi pian pianino c'eravamo comunque ripresi con mister lì o poi nel periodo prima di natale ci sono stati una marea di infortuni lì anche mister lì la pagata con con le sonero perché diciamo che quando poi subentrato mister lì abbiamo fatto sei vittorie di fila eravamo eravamo lì e poi secondo me il problema più grande è stato non aver preso la punta da 20 volt perché a noi c'è mancato fondamentalmente quello l'attaccante che nel momento di difficoltà dal nulla ti faceva ti faceva il gol in chiusura veramente che cosa c'è nel futuro di ciccio corabi l'ultima domanda spero di allenare riuscire a fare meglio diciamo come allenatore rispetto al mai fatto malissimo giocatore spero di fare di fare meglio ci sono due promozioni in serie b giusto da giocatore sono due parma e trapani e due esperienze perché con entrambe poi hai giocato in serie b no assolutamente io non mi lamento della mia della mia carriera però spero che da allenatore posso arrivare anche oltre è un augurio in bocca al lupo che ti facciamo anche noi dalla nostra redazione e ti salutiamo grazie per essere stato con grazie a voi buonasera da tutti noi ci rivediamo venerdì prossimo perché anche se venerdì santo andiamo in onda lo stesso perché si gioca giovedì in serie di si gioca sabato in serie c si giocherà poi lunedì di pasquetta in serie b quindi il campionato non si ferma e non ci fermiamo neanche noi ci vediamo venerdì prossimo allora con una nuova puntata di tutti nel pallone